musica 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 27 bianco ok a terra poi dell'altro ucciso o uno scendino merito che si rilista 30 30 buonissimo 31 30 30 30 bianco 1 a terra 1 21 21 ok bella bella l'ho per agente lico tengo 12 gol per io mi ricorda me no queste 21 31 31 31 a terra ok altro ok l'ho fin dato perché avevo 15 15 ecchi ma ottimo questo che ande ricorda che patenza di coppia volta e cd e io devo quattro mesi un merito e vengo due pesci dieci bende sopporti a nella terrazzo tempo di lancerà di anno oh non mi costruisce non mi costruisce no nico non mi ha costruito e vabbè vabbè ma è io sono morto no nico non muore che pistoletta o è pure io terra uno dici dico agente da me ok arrivo ok c'è un po di colpi più piccoli da un bel ci sono uscita 50 per sé ok sotto sotto stanno a lei vuole 50 aspetta aspetta prima vediamo il mio ok sono andato di là questi ci vanno no non sono già un penico inseguiamolo è uno che si sta andando la c'è la faccia è giù 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 non so l'altro non mi vado a me dico dove stai che sono giù ma no ma sta qua beh tu vai tanto almeno mi senti niente primo da me lui si è stato super rotto bianco non è l'intero aspetta per la terronica unico più nato e raro raro bassa grado poco più grande devo che è un po di tutto qualsiasi di nello studio ok quattro attimo due ala in attimo tu non lo vuoi può fare a band no ti ho cercato di portare spara band oppure un mezzo portare a 12 linea i due nomi di nero un pochino pure quindi si prende una nuova se non pensare il ritorno anche qua per l'oppere 15 bomb ok adesso si utilizza la mini apple ho segnato No, mi hanno ammazzato, mi hanno ammazzato Eh, non penso che ci facciamo Nico, tu scappa, se puoi Aspetta No No Peccato, bella Wow, questa è la 17 di vita Se lo sapevo, vabbè Ragazzi, vi ho finito qui Questo qua era il nuovo membro del team Spero a questo video vi sia piaciuto Ragioniamo tantissima Se ci vedete al canale, ti vedete la campanella Bella raga